Robin Hood Molto tempo fa, l'Inghilterra era governata dal malvagio e avido Principe Giovanni. Ordinò allo sceriffo di Nottingham di tassare le persone così pesantemente che alcuni furono costretti a diventare fuorilegge. Due dei più famosi fuorilegge erano Robin Hood e Little John. Erano uno il migliore amico dell'altro e rubavano i soldi delle tasse allo sceriffo per restituirli ai poveri. Un giorno il Principe Giovanni era in viaggio in carrozza a Nottingham per raccogliere i soldi delle tasse. Era così impegnato a contare il suo oro che non si accorse che stava attraversando la foresta di Sherwood, la casa di Robin Hood. Ne vide Little John e Robin Hood osservarlo da un albero. Guarda tutto quell'oro! Facciamo a Principe Giovanni una visitina, disse Robin Hood a Little John. Tra sé e sé in carrozza, il Principe Giovanni contemplando il suo oro pensava «Guarda tutto l'oro che ho! La vita è stata generosa con me da quando Re Riccardo è partito per le crociate. Trattava il popolo troppo bene!» Improvvisamente Robin Hood e Little John apparvero sul ciglio della strada travestiti da indovine proprio mentre la carrozza passava. «Vi va a discoprire cosa in serbo la fortuna per voi, maestà?» chiesero. «Indovine! Sono curioso! Fermate la carrozza!» disse il Principe Giovanni. Mentre Robin Hood prediva il futuro al Principe Giovanni, riuscì a sfilargli gli anelli reali dalle dita e Little John, di nascosto, rubò l'oro del Principe. Il Principe Giovanni non si accorse nemmeno di essere stato derubato fino a quando Robin Hood e Little John non c'erano più e ovviamente divenne furioso. Dopo qualche tempo, un amico di Robin, il frate Tak, andò nella foresta di Sherwood con una notizia. «Il Principe Giovanni organizzerà un torneo di tiro con l'arco domani. Il premio è di mille monete d'oro. Tu potresti vincere di sicuro, Robin!» disse. «Mi piacerebbe, frate, ma se mi presento sono sicuro che mi cattura!» «Sai che Lady Marian darà un bacio al vincitore?» rispose Tak. Marion era un amore d'infanzia di Robin Hood e non l'aveva ancora dimenticata. A quel punto decise di accettare e di andare al torneo. Così, il giorno dopo, due sconosciuti apparvero al torneo. «Nessuno ci riconoscerà con questi travestimenti!» disse Robin. «Io voglio vincere il torneo e voglio il bacio, ma nessuno saprà che il vincitore è Robin Hood!» disse Robin a Little John. Il torneo iniziò e ben presto solo Robin Hood centrò il bersaglio. Tutti erano sorpresi della precisione di quello sconosciuto. In poco tempo, solo Robin Hood e lo sceriffo di Nottingham arrivarono in finale al torneo. Lo sceriffo imbrogliò mettendo il bersaglio di Robin Hood molto più lontano del proprio. Ma anche così, Robin riuscì a colpire il centro per cinque volte di fila e vinse il torneo. Il principe Giovanni stava a guardare molto da vicino. Quando Robin Hood andò a reclamare il suo premio, il principe Giovanni gli disse «E ora ti darò un nome! Solo Robin Hood potrebbe scagliare una freccia con questa precisione! Prendetelo!» Sembrava la fine per Robin Hood, ma... Little John, nascosto dietro al trono del principe Giovanni, gli puntò un coltello alla schiena. Poi sussurrò al principe «Lascia andare il mio amico, ti ammazzo!» Così il principe disse in fretta alle sue guardie «Ah, ho cambiato idea, lasciatelo andare!» E così Robin Hood fu di nuovo libero. Ovviamente, quando Robin Hood e Little John si dettero alla fuga, il principe Giovanni ordinò di nuovo «Prendete quei due ladri, guardie!» Robin Hood e Little John combatterono coraggiosamente contro le guardie. Spade si scontrarono e frecce volarono. Robin Hood riuscì ad afferrare la mano di Lady Marian, che aveva sempre avuto una cotta per lui, e tutti insieme fuggirono nei boschi. «Oh, ma il principe Giovanni era furioso! Raddoppiate le tasse, triplicate le tasse! Farò pagare a tutti per questo oltraggio!» Ma naturalmente nessuno poteva pagare tali imposte, e le prigioni si riempirono. Lo sceriffo andò a rubare in chiesa e arrestò frate Tak per complicità. Ma Robin Hood era un tipo furbo e quella notte organizzò un piano. Lui e Little John scalarono l'alto muro del castello, poi Robin si nascose fino a quando lo sceriffo di Nottingham andò a dormire. Furtivamente rubò le chiavi della prigione. «Quì, Little John, prendi queste e apri le porte delle celle!» Tutti in carcere furono sorpresi di vedere un volto familiare entrare nella stanza. Si misero a gridare di gioia. «Shh! Tranquilli! Vi porteremo fuori di qui!» disse Little John mentre liberava tutti. Nel frattempo, Robin era salito nella camera da letto del Principe Giovanni, dove teneva tutto l'oro. Principe Giovanni dormiva. Così Robin legò i sacchi d'oro a una corda appesa tra la finestra della camera e il carcere e iniziò a farli scorrere. Come l'oro raggiunse il carcere, Little John staccò i sacchetti dalla corda. «Prendete e andate!» gridava mentre passava l'oro ai prigionieri in fuga. Sia Little John che i prigionieri riuscirono a fuggire, ma... Proprio in quel momento, il Principe Giovanni si svegliò. «Il mio oro è sparito! Guardie!» Intrappolato nel castello da solo, Robin si arrampicò su un'alta torre per sfuggire alle guardie. «Robin è nella torre! Bruciatelo vivo!» gridò lo sceriffo. Robin non aveva altra scelta se non tuffarsi nel fossato. «Eccolo lì! Sparategli! Lui è nel fossato!» Tutti gli uomini dello sceriffo spararono frecce in acqua. Dopo alcuni minuti, senza vederlo, dissero «E' finita! Robin Hood è morto per sempre!» Anche Little John pensava che Robin fosse annegato. «Povero Robin! Non lo vedremo più!» Ma poi Robin spuntò da sotto l'acqua. «Ehi, Little John! Sto bene! Ho respirato attraverso questa canna!» Little John fu molto felice di vederlo. Poco dopo lo scampato pericolo di Robin, il buon re Riccardo tornò dalle crociate per riprendere il suo posto sul trono d'Inghilterra. Il principe Giovanni e lo sceriffo furono arrestati per tutto il male che avevano fatto e la felicità tornò nel paese. Robin Hood e Lady Marian si sposarono e tutti i loro amici parteciparono augurando loro ogni bene. Fine